L'Abruzzo è l'unico partner italiano del progetto Ceramica, progetto finanziato nell'ambito del programma europeo Interreg IVC e volto alla valorizzazione del comparto della ceramica artistica. Abruzzo Sviluppo, l'agenzia regionale di sviluppo territoriale, con la collaborazione dei principali portatori di interesse nel campo della ceramica artistica, come l'ente mostra di Guardia Grele e il centro ceramico di Castelli, ha pianificato azioni mirate a promuovere e valorizzare l'artigianato artistico abruzzese. Ascoltiamo l'intervento dell'assessore allo sviluppo economico Alfredo Castiglione. Si metterrete le nostre eccellenze della ceramica con le eccellenze della ceramica di altri paesi europei, cercando di trasmettere, migrare tra paese a mese, quali sono le buone pratiche, le eccellenze dal punto di vista sia manuale che professionale. In questo modo la nostra regione si apre ad altre realtà, è un progetto che è iniziato nel fine 2008 e si completerà a giugno 2011 ed è nostra intenzione toccare altri aspetti dell'artigianato artistico locale, che è un bagaglio anche culturale da trasmettere alle future generazioni. Signor Verzulli ci spiega la partecipazione e il ruolo di Abruzzo Sviluppo in questo progetto. Abruzzo Sviluppo è una società in house della regione Abruzzo, quindi unico socio, che si occupa della promozione dello sviluppo industriale, artigianale e commerciale della regione. In questo progetto siamo entrati in corsa, diciamo è un progetto già avviato, della comunità europea, a cui partecipano alcuni stati della comunità europea come Romania, Ungheria, Grecia, Spagna, Portogallo e l'Italia come socio unico, come partner unico di questo progetto che è Abruzzo Sviluppo.